La giornata di oggi, che è la giornata di accoglienza dei nuovi specializzanti, è una giornata importante. È importante per noi che conoscono nel modo migliore la nostra istituzione e quindi che entrino subito nel clima giusto per lavorare insieme a noi. Ho scelto la specializzazione all'Università Campus Biomedico perché ero entusiasta dell'idea di poter usufruire di una struttura all'avanguardia. Essendo una università e un policlinico a misura Duomo, mi permette di andare incontro alle esigenze del paziente avendo però dei percorsi di eccellenza nella mia specializzazione che sarà neurologia. Per me è un'esperienza nuova perché non ho studiato qui e di conseguenza devo un attimo ambientarmi, conoscere persone, è tutto nuovo. Però sicuramente il primo impatto sta risultando positivo poiché ci sono tutta una serie di fattori che fanno in modo che anche lo specializzando il primo anno possa essere a suo agio. Uno specializzando del Campus Biomedico è in qualche modo un protagonista. È impegnato in prima linea nell'attività clinica ma sempre di più anche nell'attività di ricerca perché pensiamo che la ricerca in medicina possa essere un elemento fondamentale per la formazione. È un processo progressivo di assunzione di responsabilità. Si comincia dagli elementi molto semplici e poi si arriva sempre a livelli più complessi in modo che si arrivi alla piena autonomia professionale. Inoltre va considerato che la rete del Campus Biomedico non è soltanto universitaria ma è molto estesa, include molti ospedali dove i nostri specializzanti possono fare una formazione veramente a 360 gradi completa.